Sono state ore di apprensione quelle vissute sabato mattina dopo l'alluvione che il giorno precedente ha messo in ginocchio diverse comunità marchigiane. Da metà mattinata, infatti, una tempesta di pioggia e vento, con raffiche fino a 100 km orari, si è abbattuta sulla regione e in particolare sulla provincia di Pesero Urbino, causando una strage di alberi, feriti e ombrelloni sradicati dalle spiagge. Diverse le vie chiuse al traffico per permettere la rimozione di piante e rami caduti in strada e sulle auto, come successo anche in Viale Italia a Fano e in Viale della Vittoria Iesi, dove un albero di grosse dimensioni ha interessato due veicoli che stavano transitando, ma per fortuna i conducenti ne sono usciti illesi. A Fosso Segliore, una piccola tromba d'aria ha fatto volare il tavolino di un bar che è finito sul volto di una persona, poi trasportata al pronto soccorso. Sulla statale, invece, un furgone telonato si è girato su se stesso ed è finito fuoristrada. Paura anche sul litorale, dove l'acqua del mare ha raggiunto chioschi e capanni, rovinando arredi, strutture e attrezzature. Una situazione che ha costretto qualche gestore a chiudere lo stabilimento e a terminare così la stagione balneare. In diversi comuni i sindaci hanno invitato i cittadini a rimanere a casa, c'è troppa gente in giro a fare le foto, soprattutto in Viale Trieste. Avevano commentato ricevimine a Pesaro spiegando che si stava intralciando il lavoro non facile di Aspes e del centro operativo comunale. Anche a Fano è stato aperto il COC per coordinare più di 50 interventi. Abbiamo messo in campo sei squadre, hanno spiegato serie e fanesi, costituite dalle imprese che lavorano per il Comune, dai volontari del CB Club Mattei e Aset. Con la collaborazione della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco è stato fatto un grande sforzo per risolvere le criticità che si sono presentate. Gli interventi principali sono stati fatti nelle zone periferiche, tra cui Via della Galassa, dove è stata necessaria una ruspa per rimuovere gli alberi caduti, poi Carignano e Montegiove. Interessata anche la città, con particolare riferimento a Viale Piceno e Via Papiria, che è stata chiusa al traffico dopo che un albero è caduto su un'auto senza provocare gravi conseguenze. Inoltre, per più di due ore sono rimasti bloccati i treni lungo la linea adriatica a causa del crollo di un muretto di recinzione nel tratto tra Pesaro e Fano. Decine le foto inviate dai nostri reporter di strada che hanno segnalato situazioni di pericolo e gli interventi in corso. Anche oggi sono proseguite le operazioni di pulizia, così come i sopralluoghi per valutare le alberature a rischio.